Lo devi fare, se vuoi continuare a sentire la mia voce, se vuoi che io rimanga ancora vicino a te. Certo che lo voglio. Mio padre, no? E' morto. E' passato il tempo. Sui suoi sei mesi avrò il diritto di stare male, no? Cosa dici? Tu lo farai per me e lo farai per sempre. Sì, è un bravo ragazzo. E' 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 un bravo ragazzo.